buongiorno è oggi andiamo a fare visite dai ora e morire pure o no dove andiamo no come 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 c'è la non sta e da sto fermo come il bravo no le minacce no dal dottore le minacce no proprio no chiaro tu ti rendi conto mi hai lasciato fuori mezz'ora mi hai lasciato fuori mezz'ora e tu stai dormire qui si si mi hai lasciato fuori prima di tutto prima di tutto c'è la chiave tutte e non c'è la chiave ho capito ma io so che ci sei te se dormi fermati mannaggia no già oggi è dato abbastanza ok ora tra un po' tocca andare te li fai riposare un'altra oretta massimo ok ma io mi faccio si è la calda in tua macchina porca maiale eh perché ho fatto la sauma la sauma che è la sauma oh oh che è la sauma ma non era una pianta era eh no il cazzo era mi si era storto lo sterzo è lenta ma via fammi vedere fammi vedere anche da me un po' non ne aveva di niente e mi ci sta prima mi cascavo mettila sta fermo la rompe schermo mettila dentro madonna questa comunque è lenta sta fermo madonna alza di qui no l'hai vista tranquillo rilassato fermo fermo te l'alzo te l'alzo scappa va fuori basta basta ora tu sei bellino mannaggia eh no no hai guardato sopra quindi questa vale come una bestemmia eh il costume davanti e con quel coso aperto ma ce l'eva tutta pelata la devono andare al mare se levano tutto ma se ce n'asse se ne che c'ha da stano che voleva alza le mani bravi tu sei l'esperto io ti ascolto eh eh no capito mi raccomando hai quattro minuti mi raccomando chiuso eh quattro minuti non vi toccate che vi ascolto non vi toccate no 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 mi fatti fai finta che c'è perché sd'oha ci viene male te lo tette mi ha detto anche seուve tocca lasciato il fatto per se invece facciamo un bordello io facciamo un bordello la mi faccio un bordello veramente no perché se non fossiak st Finito se mieさい anche se lui fa scherzi voi ce la bocca stretta bravo 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 e mannate dopo bravo 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 mi raccomando la bocca non si muove eh eh mi raccomando eh non aprite eh non aprirsi fate pinta che incendi liate retta questi tre minuti tre minuti dai anzi già ne hai impasciati un po' due minuti mancano mancano due minuti mancano due minuti due minuti fermo fermo